Buongiorno ragazzi, provo oggi a farvi una video lezione presa da WeSchool nella sezione letteratura latina che è una raccolta di materiali per spiegarvi un carme di catullo qui abbiamo Gomorra alla nostra destra, non fa niente, un carme di catullo dalla seconda parte del liber, quella degli epigrammi e che voi state sicuramente leggendo appunto perché nella vostra raccolta di letture potete spaziare nella prima parte nuge come vi dicevo ma anche nella seconda epigrammi. La terza P ha già un pochino sentito parlare della metrica ho scelto questa lezione di letteratura latina su WeSchool perché troviamo il testo già con la scansione metrica indicata e questo mi permetterà anche di spiegare qualche nozione di metrica sia alla terza P che alla terza B. Cominciamo comunque. Il carme 101 in realtà è un carme che non è propriamente un epigramma. Voi sapete che gran parte degli epigrammi nella seconda parte sono così raccolti perché hanno intanto un metro in comune che è il metro del distico elegiaco che andremo a spiegare tra poco sul testo e poi perché in genere sono dei componimenti brevi d'occasione quindi legati a una particolare circostanza, una particolare occasione, quasi improvvisati almeno nella finzione letteraria e caratterizzati da una prima parte in cui si descrive una situazione e da una parte finale, spesso un distico o solo un unico verso, distico ricordo che significa coppia di versi dicevo una parte finale che capovolge con una battuta ad effetto e inaspettata il quadro iniziale un maestro degli epigrammi sarà più avanti in epoca imperiale marziale, ve ne cito uno da marziale per farvi capire marziale non so, dice che tutti vogliono sposare una certa signora di Roma anche se è brutta tutti la amano, tutti la cercano, che cosa ha di speciale? L'ultimo verso dice tussit, ha la tosse, cioè ha la tisi, sta per morire in realtà tutti la vogliono sposare per prendersi l'eredità dunque quindi basta quest'ultima, quest'unica parola, questa chiusura ad effetto a creare appunto il divertimento, l'effetto comico, la battuta velenosa si chiama appunto fulmen in clausola, cioè fulmine alla chiusura o venenum in cauda, veleno nella coda, come quello dello scorpione ma torniamo a noi questo carme 101, anche se è in distice legiesce e quindi si trova nella terza sezione del liber, quella degli epigrammi in realtà affronta una tematica privata è il dolore per la morte del fratello, come leggiamo noi sappiamo che il nostro Catullo a un certo punto si allontano da Roma anche per dimenticare lesbia e seguì Gaiomemmio in Bitinia lì ebbe modo di fare una deviazione per andare a porgere gli omaggi funebri sulla tomba del fratello che anche lui al seguito di un altro uomo politico purtroppo si era ammalato, era morto lontano dalla patria questo testo è una elegia e quindi un componimento a carattere personale e di argomento triste elegia significa lamento bene il carme 101 è famosissimo tant'è vero che Foscolo lo rielaborò nel famoso sonetto dedicato anche qui al fratello morto le leggi a funebre dunque un disio non andrò sempre fuggendo se volete qui c'è il link ve lo potete rileggere forse qualcuno l'ha già studiato l'abbiamo anche forse guardato al biennio veniamo dunque al nostro testo allora vedete gli accenti in realtà io avrei bisogno adesso di aprire un momento un file per farvi vedere com'è lo schema del distico elegiaco apro un foglio di word abbiate pazienza il distico elegiaco è una serie di due versi in cui gli accenti sono disposti con un ritmo una sequenza di questo tipo allora attenzione quando noi parliamo di metrica non teniamo più conto degli accenti delle parole così come le leggiamo in prosa ma teniamo solo conto della quantità delle sillabe le sillabe possono essere brevi che per noi adesso saranno così una u la sillaba breve è una sillaba in cui c'è una vocale breve semplicemente l'altra sequenza l'altra possibilità è la sillaba lunga che noi indicheremo non so bene come fare diciamo così con tre trattini sarebbe in realtà un trattino lungo la sillaba lunga contiene una vocale lunga come facciamo a riconoscere le vocali lunghe le vocali lunghe sono per esempio i dittonghi si chiamano vocali lunghe per natura perché si pronunciano allungando prolungando il suono della vocale per esempio ae au eccetera eccetera oe ei i dittonghi un'altra un'altra vocale lunga sempre lunga sicuramente lunga per natura è la vocale per esempio che noi già sappiamo essere lunga per motivi grammaticali per esempio la vocale della desinenza dell'ablativo oppure la vocale e di ere seconda coniugazione vi ricordate che non so quando io scrivo videre il latino sopra la e c'è un segnetto come una specie di trattino sopra la e di ere per dire che è una lunga e noi sappiamo a quel punto che è una seconda declinazione in rosa ablativo noi abbiamo rosa con un trattino che non so fare sopra la forse se chiudo la tastiera e passo così riesco riesco magari a scrivere anche ecco non so la questa è abita da vederla così rosa vedere così quando trovate questo elemento questo trattino vuol dire che quella è una vocale lunga ma in realtà tutto questo è un po' macchinoso è difficile da individuare cosa vi consiglio di fare vi consiglio di individuare le vocali lunghe o meglio le sillabe con le vocali lunghe quando con una semplicissima regola sono lunghe le vocali in sillaba chiusa quindi scriviamo vocali in sillabe chiuse quali sono le sillabe chiuse sono le sillabe seguite da due consonanti questo è sempre vero tranne qualche eccezione quando per esempio abbiamo la coppia consonante cr in genere cr che a volte non fa allungare la sillaba le due consonanti si possono trovare tranne quindi a volte tranne a a a volte le vocali seguite le due consonanti possono trovarsi anche su parole diverse scusate su parole diverse quindi non so poi lo vedremo negli esempi allora dunque qual è il gioco il gioco è creare ritrovare nel verso la sequenza giusta di lunghe e di brevi per formare delle unità lunghe brevi delle unità ritmiche chiamate piedi i piedi metrici nel nostro caso sono questi allora una prima sequenza vediamo se trovo ecco le lunghe le brevi non trovo la breve devo usare la u per fare la breve ok facciamo e trattino sarà lo stesso allora dicevamo la prima il primo piede che ci interessa è questo il dattilo la prima sillaba è lunga e poi è seguita da due brevi niente da fare questo è un dattilo niente ragazzi non ce la posso fare ci vorrebbe un simbolo che è una u piccolina ma non la trovo lunga breve breve ok attenzione questo deve vedersi che è una lunga facciamola così che è più carina lunga breve breve questo è un dattilo dicevamo il secondo piedemetrico che ci può interessare è questo lo spondeo lo spondeo è in realtà una possibile sostituzione del dattilo cioè immaginate che una lunga una sillaba lunga valga come due brevi voi capite che il dattilo è equivalente allo spondeo ok bene vediamo dunque come si fa il dissico e leggerla dattilo niente a fare ragazzi ci fermiamo un attimo uno due dattilo lo dobbiamo ripetere per sei volte quindi mi ci vorrà il mio tempo uno due tre quattro quattro cinque questa è una uu accidenti a lui uno due tre quattro cinque sei il sesto in realtà è catalettico cioè avrà soltanto due sillabe non ci interessa se la lunga se l'ultima è lunga o breve adesso io ho messo una breve ma potrebbe essere anche una lunga l'importante è che ci ricordiamo che non è di tre ma di due quindi uno due tre quattro cinque sei un'altra regola che vi è utile è che ricordare non solo che l'ultimo è l'ultimo unità è di due sillabe ma anche che il penultimo piede cioè il quinto dattilo in genere è sempre puro cioè non è sostituito dallo spondeo mentre tutti gli altri possono essere sostituiti dallo spondeo questa sequenza di sei metri si chiama esametro di sei piedi dattilici esametro dattilico catalettico per indicare che l'ultimo l'ultima sillaba è caduta e quindi l'ultimo piede invece che di tre sillabe è sempre comunque di due il disi qualigiaco ha un primo esametro e poi un secondo esametro che è praticamente molto simile al primo e adesso vi faccio però vedere in che senso lo dobbiamo aggiustare allora tenete conto che tutte le lunghe sono accentate quindi il ritmo sarà pentola 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 bolle fate conto bene ricordate anche che in genere la parola o comunque il ritmo segna una pausa dopo il terzo accento si chiama pausa mediana e quindi avremo quasi sempre lì o una virgola o la fine di una parola per cui la voce si interrompe ta 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 pausa ta 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 bene questo primo pezzettino guardiamolo un attimo questo primo pezzettino fino alla pausa si chiama emiepe mezzo verso bene a tre accenti il pentametro ripete due volte questa sequenza qua quindi anzi cancelliamo sotto e vediamo come si costruisce il pentametro il pentametro non è altro che prendo la prima parte dell'esametro fino alla pausa e lo ripeto di nuovo come sarà dunque il ritmo sarà ta 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 con come vedete due accenti attaccati anche il pentametro ha sei accenti con due accenti attaccati in mezzo al verso bene chiudiamo un momento questo questo elemento e torniamo alla pagina di prima vediamo se riusciamo a leggere multas qui vedete che multas è lungo perché è una sillaba chiusa l e t sono due consonanti infatti multas perge per vedete che anche la e è lunga perché c'è la r e la g di seguito anche se sono in due parole diverse multas qui non abbiamo avuto dunque un dattilo ma due lunghe come faccio io a capire se devo mettere la sequenza di tre sillabe o se devo mettere la sequenza di due cioè se devo mettere un dattilo uno spondeo mi deve tornare o la sequenza lunga breve breve o la sequenza lunga lunga non è mai possibile che venga fuori una cosa tipo lunga breve e poi una lunga attaccata quindi cosa dovete fare dovete individuare ovviamente tutte le lunghe tutte le sillabe chiuse in modo che già capite un po' come si può strutturare il verso vi ricordate che l'ultima parola è sempre di due sillabe l'ultimo piede è sempre tata accentato nella penultima sillaba vi ricordate queste cose e poi è un po' la logica del sudoku ho dei punti fermi e gli altri li devo aggiustare per far tornare il ritmo multas per gentess et multa per equora vectus advenias miseras fratera di inferias utte postre mo donare munere mortis et mutam nequiquam nequi scusate et mutam nequiquallocuererci nerem attenzione che nel nostro testo vediamo letto vediamo nequiquam e anch'io lì per lì ho letto nequiquam ma dobbiamo ricordarci una regola che diciamo ora che di fronte alla vocale la desinenza am um em cadono e non si pronunciano e non esistono e quindi in nequiquam alloquerer io leggo nequiquallocuererci nerem quando quidem fortunami te tapstulit ipsum anche qui tete abstulit due vocali che si incontrano fanno come in italiano come nella metrica italiana sineresi e quindi insomma la e di tete non si legge e si fonde con la a tete abstulit se no sarebbe anche troppo lungo e il verso avrebbe una sillaba di troppo eum miserindigne fratera dem temi vedete il pentametro eum miserindigne e poi di nuovo l'accento subito attaccato perché facciamo la seconda sequenza rossa eum miserindigne pausa fratera dem temi accentato sull'ultima pausa nunc è l'esametro invece nunc venire ec priscuo quemore parentum tradita sunt tristi munerad vedete anche qui la e si elide munerad inferias acipe fraterno multum mananzia fletu atquim perpetuum fratera vacque vale avatque di nuovo la e si elide bene la traduzione ce l'avete e il video è già troppo lungo quindi mi fermo qua